Buongiorno a tutti, oggi vedremo la gamma delle nostre staffe applicabili sui nostri allineatori. Partiamo con una staffa entry level a 4 punti, mi permette di lavorare da 10 a 21 pollici, puntale col doppio profilo, per cui profilo per il cerchio in lega sottile e profilo per il cerchio in ferro, fatto apposta per non dover tutte le volte andare a rimuovere la borchia dal cerchio. La stessa staffa è utilizzabile anche con delle estensioni per lavorare con cerchi di grande dimensione, per cui andando a montare le 4 estensioni in questo modo andiamo ad aumentare il raggio di capacità fino a 26 pollici. Sulla stessa staffa è possibile andare a sostituire i puntali in dotazione con dei puntali che sono accessori resinati, per cui hanno lo stesso profilo, cerchio in lega e cerchio in ferro salto borchia, ma resinati per non andare a rovinare o graffiare il cerchio in lega. Passiamo adesso a una staffa professionale, made in Italy, sempre a 4 punti, ma con guide in carbonio, per cui più leggera per facilitare l'operatore al montaggio, e pomello di bloccaggio frizionato, per cui non vi permette di andare a stringere troppo la staffa e a deformarla. Il puntale che sono in dotazione con questa staffa sono sempre a doppio profilo, ma qui abbiamo un profilo per il cerchio in ferro classico, per cui va rimossa la borchia dal cerchio, e profilo sottile per il cerchio in lega. Il perno della staffa è scorrevole, se utilizziamo la staffa con assetti CCD tradizionali, per cui posso andare ad abbassare il perno se ho problemi di comunicazione fra le testine, e sempre qui, come abbiamo visto sulla staffa entry level, possiamo andare ad applicare dei puntali resinati, in questo caso ne abbiamo di due tipi, quello classico uguale a quello in dotazione, col profilo cerchio in ferro dove devo andare a rimuovere la borchia, o profilo per il cerchio in lega dove vado ad applicare con il plommatico e col bordino copricerchio. O se no, il puntale SCC, che è quello con il profilo salto borchia, per cui evito di rimuovere la borchia, e il solito profilo per il cerchio in lega. Sulla stessa staffa 1026 in carbonio possiamo andare ad applicare anche un'estensione che ci permette di lavorare fino a 30 pollici, per cui andando a rimuovere i quattro puntali possiamo andare ad applicare questa estensione che ci permette di lavorare fino a 30 pollici, o andandola a montare al contrario, ci permette anche di lavorare con l'autocarro. La stessa staffa, sempre a 1026, è possibile abbinarla a degli attacchi spider, montandoli in questo modo sulla staffa possiamo andare a lavorare senza contatto con il cerchio, per cui andando in appoggio sulla spalla del plomatico con questi quattro rulli e andare ad aggrappare la ruota direttamente sul battistrada con questi quattro attacchi. Adesso vediamo una staffa sempre a quattro punti, made in Italy, ma più economica perché ci permette di lavorare da 10 a 21 pollici, solamente un pomello di bloccaggio non frizionato e il puntale in dotazione è a un profilo, col profilo classico, quello per il cerchio in ferro dove dobbiamo andare a rimuovere la borchia. Ma è possibile sempre su questa staffa andare a applicare gli stessi puntali che abbiamo visto in precedenza per la staffa 1026, per cui quello classico col doppio profilo o anche quelli resinati e anche quello col profilo per il salto borchia. Questa staffa non ha il perno muovibile, ma esiste una versione con il perno muovibile per poter andare a abbassare il perno e per poter lavorare se si ha problemi di comunicazione con le testine, con gli assetti tradizionali CCD. Questa è una staffa invece rapida che va in appoggio sulla ruota, per cui non andiamo a contatto con il cerchio, vi permette di lavorare da 13 a 28 pollici, ma è una staffa consigliata per lavorare con cerchi in buone condizioni e si può utilizzare solamente sugli assetti tradizionali. Si va ad appoggiare sul battistrada con questi due perni e si va in appoggio con queste due plastiche sulla spalla del pneumatico. Adesso passiamo invece a delle staffe salto-compensazione a tre punti, per cui qui abbiamo un modo diverso di lavorare, perché non andiamo più ad aggrapparci con quattro punti sul bordo del cerchio, ma andiamo in appoggio sulla facciata del cerchio con tre punti, con i nostri puntali ABS e andiamo ad aggrapparci al battistrada per fare il bloccaggio. Questa staffa vi permette di lavorare da 9 a 21 pollici, salto-compensazione come abbiamo già detto, ma è possibile anche andando ad applicare queste estensioni, in questo modo, lavorare fino a 28 pollici. I puntali ABS ce ne sono diversi tipi per andare ad appoggiarsi perfettamente con tutte le varie tipologie di cerchio, per cui ce ne sono di vari tipi, anche con la possibilità, volendo, di andare ad aggrapparsi sul bordino del cerchio. Continuiamo con un'altra staffa salto-compensazione, questa è omologata dai principali costruttori di veicoli, perché permette di lavorare in maniera, diciamo, ufficiale, perché va a, dipende poi sempre dalla marca del veicolo, ma per esempio con i veicoli Mercedes, BMW e Porsche possiamo andare ad utilizzare questi puntali per andare a fare il centraggio sul cerchio, per cui il cerchio è preforato, dove io vado in appoggio direttamente sul mozzo, per cui posso saltare la compensazione e mi vado ad aggrappare con questi due ganci sul battistrada del pneumatico. Questi sono, diciamo, gli adattatori che si usano per Mercedes e BMW, questi e questo tipo di adattatori, invece queste boccole vi permettono di fare il centraggio direttamente sul foro centrale del cerchio e si usano per Porsche andandole a montare, chiaramente rimuovendo i perni e andando a montare questa boccola nella parte centrale. Questa staffa vi permette di lavorare sempre da 9 a 21 pollici, salto compensazione. Adesso invece passiamo alle staffe autocarro, per cui chiaramente sono utilizzabili solo con gli assetti che ci permettono di lavorare con gli autocarro, per cui i nostri assetti tradizionali a testine. Questa è la staffa classica autocarro, per cui chiaramente con un profilo molto più accentuato per poter andare a lavorare con i cerchi d'autocarro, staffa che va da 17,5 a 25 pollici, puntale ad un profilo, ma con la possibilità di andare ad applicare questi cappucci per andare a lavorare anche col cerchio in lega o dove è più problematico il bloccaggio sul bordo del cerchio. Ultima staffa, sempre autocarro, ma professionale, perché questa ci permette di saltare la compensazione. Sugli autocarro è abbastanza complicato effettuare la compensazione, con questa staffa possiamo andarla a saltare, perché andiamo a fare il centraggio con questi tubi, fra virgolette, direttamente sul bullone del cerchio. Andando a fare il centraggio sul bullone, possiamo evitare di fare la compensazione, perché la misura dell'assetto sarà sempre precisa. La dotazione comprende tubi di diverse dimensioni, in base alla tipologia di cerchio, vado ad utilizzare i tubi, fra virgolette, corti o i tubi lunghi.